E' stato aperto il cantiere delle opere anti-erosione a Villa Ardente di Pineto. Si tratta della realizzazione davanti alla Pineta Catucci di una barriera soffolta di 500 metri e una successiva di 400 metri, finanziate con 950 mila euro di fondi Masterplan. I lavori delle scogliere per il primo lotto partiranno, secondo il progetto, dal primo pennello a nord per arrivare fino a via Piemonte, mentre il secondo lotto andrà da via Piemonte fino al Lido dei Pini. E' un giorno importante, finalmente iniziamo questi lavori. E' stato un lavoro articolato e anche lungo, anche per la tipologia dell'intervento. Per oggi iniziamo con il primo lotto da 950 mila euro, poi passeremo al secondo lotto altri 950 per concludere con il terzo lotto da 1 milione e 100 e fare in modo che si possano dare delle risposte a questa zona di Pineto che per tanti anni era stata ignorata. Risposte che stanno arrivando su tutta la costa terramana? Sì, stanno arrivando su tutta la costa terramana, stiamo investendo molto per la difesa della costa e per la lotta all'erosione. Anche nella prossima programmazione FSC che si concluderà entro la fine dell'anno verranno destinate importanti risorse per combattere questo fenomeno. I balneatori residenti della zona nord di Pineto attendono da tempo questo intervento. Anni fa una violenta amareggiata causò dei danni anche al tratto pedonale della zona e tante volte i vari stabilimenti hanno avuto enormi disagi per il ristringimento della spiaggia, salvata solo dagli interventi temporanei di ripascimento. Faranno il deposito dei massi a Monte Silvano e poi metteranno questa prima scogliera soffolta di 450 metri. Poi ci sarà il terzo lotto che è il lotto più importante perché rappresenta il 95% dei problemi di questa zona che dovrebbe coprire tutta la Pineta Cotucci fino qui al Lido D'Agino. Questo terzo lotto in pratica già è stato concluso il tipo di contratto, è stato mandato alla via, la via l'ha accettato, le osservazioni finivano il 15 settembre, non ci sono state osservazioni su questo, quindi dovrebbe subito dopo il primo e il secondo lotto avere l'esecuzione del terzo lotto.